ciao a tutti e benvenuti anche oggi sul canale di Nicole on the tube e io ancora mi devo sistemare mi devo vestire perché ci devo preparare per questo video oggi è san valentino quindi tanti auguri a tutti quelli che si chiamano valentino valentina e poi è anche la festa degli innamorati e quindi siccome noi siamo innamorati la mamma che cosa deve regalare ha fatto un bel regalino la cry babies gold certo l'abbiamo già fai questo come si apre forse non lo sappiamo quella vestita da coccinella bella e questa è bella strano che non ti accontenti di qualcosa poi abbiamo una copertina e qua c'è tutta la collezione ma l'unicorno è raro gioia è difficilissimo da trovare poi abbiamo la baraccina ah si scusa ti volevo aiutare siccome mi hai detto farlo con me nel video pensavo che vorrei essere aiutata non ci riesci nemmeno io eccola qua la baraccina poi qua non c'è niente non c'è niente no non c'è niente apriamo gli altri no ma ci deve essere qualcosa ecco non c'è niente aspetta no ti apri gli altri no no non c'è cosa ci deve essere no ma c'è gioia ammi le altre ci saranno le altre vai ma c'è niente aiutami gioia ammi le altre ammi le altre ammi le altre gioia non c'è niente ammi le altre che c'è qualcosa qualsiasi ok non abbiamo trovato né il zuccio dorato ok non abbiamo trovato il zuccio dorato qua c'è qualcosa che non sappiamo cos'è niente poi qua qua niente ce la faccio amore guardala 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 non diamo le spalle aspetta giriamola vediamo se esce l'hai preso cos'è un braccialetto ancora c'è qualcosa cos'è? qua pesa aspetta ecco ancora c'è qualcosa da qualche parte qui questo ecco te un geladino si poi c'è qualcosa da qualche parte che si muove qua qua ciuccio ciuccio giallo c'è più niente? no a posto a posto questa qui è la nostra crybaby sgold sgold con la sua oltroncina cino tac 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 questo il ciuccio ciuccio tac tac questo toglierino e questo il giacciolo bracciale quindi bracciale dove si vende? abbraccio giusto? si poi abbiamo dai faccio tutto io si? per lo vedere però ma anche no infatti video oscuro il gelato dove lo mettiamo? ma lo fa il gelato ce l'ho io mettiamo l'acqua facciamo l'acqua facciamo l'acqua ci abbiamo fatta no vabbè vabbè non fa nulla facciamo ancora tanti auguri per San Valentino mandiamo un bacino abbiamo fatto la rima dai salutiamo e ci vediamo al prossimo super video velocissimo però facciamo un video un attimo un attimo un attimo da 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 dai di coperta con la copertina perfetto basta? ok salutiamo manda un bacino saluta 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 ma prima Nicola vi saluta vestita da Ariel senza i capelli perché monella perché perché monella scusami ma dimmi ora non vedere come sono fatte le sue lamiche e poi le lamiche lamiche lacrime e non so vedere come piace e vabbè poi lo fai con calma intanto vi salutiamo i nostri amici sì ma non li saldiamo li saldo solo io ok ciao ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao